benvenuti a close up l'artista di cui vi parlo si chiama Esteban Villalta Marzi il nome vi fa pensare immediatamente immagino a un artista non italiano in effetti Esteban è un artista spagnolo figlio d'arte il padre è stato un pittore spagnolo anche con una sua rilevanza nella pittura degli anni 60, 70 Esteban Villalta Marzi è in realtà italiano cresciuto a Roma un pittore che si è formato negli anni 70, inizio anni 80 all'interno di quella che era la comunità culturale, musicale della città anni in cui l'artista è stato anche uno dei precursori di un certo modo di immaginare la pittura, in un certo modo di fare figurazione in quegli anni in cui il suo legame di Esteban con la musica ad esempio era molto forte e con le culture di quel periodo, parliamo ripeto della metà degli anni 70 fino agli anni 70, ci sono delle foto di Dino Ignani un fotografo storico che ha documentato quel momento che era appunto un momento in cui un certo tipo di club, di vita, di abbigliamento di stili, di trasgressione, di eccesso avevano una loro centralità Esteban in quegli anni da artista giovanissimo, figlio d'arte come vi dicevo spagnolo ma nato e cresciuto a Roma in quegli anni ha cominciato ad esprimere un valore che oggi riletto a distanza lo pone davvero come uno degli antesignani di un certo tipo di post pop figurativo in cui la pittura iniziara a dialogare con il fumetto, con l'illustrazione con quelle che erano le matrici del graffitismo, della strada appunto anche delle culture musicali, letterarie tutto quello che in quel momento rappresentava appunto un riferimento generazionale La sua pittura iniziale come vi dicevo ha un forte legame con quelle che sono le matrici del graffitismo, rivedendo oggi a distanza le pitture degli anni Ottanta c'è davvero questa grande valenza selvaggia, molto carica, eccessiva dove si tendeva ad esasperare quelle che erano le matrici del disegno, del contorno, del colore e qui davvero emerge quella che è una fisionomia iper pop dell'artista che era molto ben sintonizzata ad esempio con quelle che erano le culture pittoriche in Germania i nuovi selvaggi, la pittura di Immendorf, di Kippenberger, di tutta quella generazione di Fetting, di tutto quel gruppo di pittori soprattutto berlinesi che negli anni in cui in Italia si parlava di transavanguardia in Germania appunto faceva sì che si parlasse appunto di questa nuova corrente selvaggia che rispetto alla transavanguardia aveva proprio questa capacità di essere molto più eccessiva molto più trasgressiva, molto più radicale, molto più ancorata a un recupero della pittura dentro le dinamiche appunto di una forte investitura pop Steban Villaltamarsi è stato ripeto uno dei precursori in Italia di questo tipo di pittura che poi si è sviluppata negli anni tenendo fede a questa idea di essere sempre molto molto legato alla natura del colore, a questa sperimentazione di eccesso cromatico che poi lo ha portato ad avere sempre questa valenza molto potente su ogni lavoro in cui il fumetto, l'illustrazione, la capacità di essere sintetico, di essere asciutto nel tratto è molto molto dinamico, sempre capace di far sentire l'atmosfera dell'opera quasi a livello sensoriale, quasi a livello di darci una percezione dei rumori, degli odori, dei sapori era come se l'opera avesse dentro di sé tutto questo e ciclo per ciclo il lavoro di Steban Villaltamarsi poi ha preso forma con una dimensione sempre di cicli seriali in cui appunto questi cicli seriali poi hanno definito un'evoluzione della sua pittura iper pop e quindi dando un'identità sempre più precisa, sempre più delineata di un artista capace di intanto far dialogare molto bene due culture come quella italiana e quella spagnola ci sono i cicli dedicati alle donne che ballano il flamenco i cicli dedicati a queste anche figure tipiche spagnole una di queste è il torero, il torero che però diventa una sorta di guerriero notturno un bloodrunner, diventa un personaggio da fumetto, un supereroe che appunto mescola insieme la cultura tipica spagnola della corrida con questa idea invece molto Marvel, molto DC Comics tutto quello che è l'immaginario appunto dei supereroi che abbiamo conosciuto negli anni 80, 90 diventa appunto un qualcosa di esplosivo e di fortemente pittorico però c'è sempre un'autonomia di Esteban rispetto alla cultura del fumetto rispetto alla cultura dell'illustrazione da cui lui parte che in qualche modo lui ha attraversato ma rimanendo sempre fortemente pittore e così via nel corso del tempo tutti i cicli hanno sempre sottolineato questa valenza di grande autonomia dell'artista rispetto alle matrici appunto da cui poteva partire così è avvenuto ad esempio nei cicli più legati al fetish dove ci sono queste donne, ad esempio le infermiere, queste ballerine invece più circensi quindi con una visione del burlesque anche qui molto pompata, molto gonfiata molto volutamente artificiosa e proprio per questo pienamente autonoma rispetto a dei riferimenti altri e poi ecco anche questa grande capacità di essere sempre molto dinamico come dicevo molto vitale, molto in movimento tutta l'opera che ha sempre questa sua grande capacità di essere chiusa dentro la cornice quindi di definirsi all'interno del processo della pittura poi in realtà ha sempre una valenza filmica, ha sempre una valenza cinematografica ha sempre quell'idea di un frammento bloccato all'interno di un movimento dinamico i cicli dedicati alle donne in questo senso sono molto rappresentativi di questa sua visione di questa capacità di essere pop all'interno della pittura ma di essere pop non in modo esclusivamente citazionista ma di dare vita a un pop che ha davvero una sua regola aurea una sua autonomia, una sua indipendenza seriale Esteban Villalta Marzi in questo è stato un pittore abbastanza unico in Italia uno dei pochi che negli anni 80 poterà rappresentare rispetto alla transavanguardia quindi alla pittura che abbiamo conosciuto con Chia, Cucchi, Clemente, Paladino De Maria rispetto a quel modo di dipingere forse avvicinandosi più a una certa pittura napoletana come quella di Nino Longobardi e di pittori che avevano una loro esplosività innata più selvaggia ma anche più aperta alla contaminazione ecco Esteban credo che in questo rappresenti un unico perché riusciva davvero a portare il livello di contaminazione su un piano molto nuovo in quel momento storico rivedendo oggi ripeto quei lavori c'è stata nel mese di settembre 2017 quindi ora mentre sto parlando un'antologica al Pan di Napoli che ha dato proprio forma a questo immaginario di 40 anni di pittura ripensata e riproposta per cicli cicli come gli espressionismi feroci che già nel titolo della serie ti danno proprio l'idea di questa capacità di aver manipolato in quegli anni una dimensione più selvaggia più espressionista come dicevo vicino a una certa pittura tedesca con questa ferocia però con questa grande abilità di essere poi sempre molto anche ironico molto giocoso molto trasgressivo rispetto ai codici della pittura comunque nella sua complessità davvero un artista da scoprire o da riscoprire in tutta la sua valenza di personalità di autonomia di qualità tecnica di qualità visionaria e poi ecco di grande narratore di un mondo che è poi in fondo il mondo di Esteban Villalta Marzi sono questi i mondi di Esteban e sono i mondi appunto ripeto per chiudere di un artista che merita appunto l'attenzione che meritano gli artisti autonomi gli artisti che hanno saputo costruirsi un linguaggio, costruirsi un codice e costruirsi un mondo davvero un artista che ha rappresentato un mondo, un mondo pittorico, un mondo autonomo, un mondo proprio in questo caso un mondo fatto di tanti mondi appunto i mondi di Esteban Villalta Marzi Grazie 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 Grazie